Al Meazza il Bari ci è già stato, nella prima di campionato e fu una grande giornata di calcio. Nel loro esordio, dopo il ritorno in Serie A, i biancorossi tennero testa all'Inter, rischiando addirittura il colpaccio. E se la squadra di Ventura si ripetesse nello stesso stadio domani contro il Milan? Nel calcio di oggi può accadere di tutto, lo dice anche un milanista doc come Gianni Rivera. Questo periodo può succedere di tutto, il campionato lo sta dimostrando, l'ha detto in più di una circostanza che niente è già scritto e quindi speriamo almeno che sia una bella partita. Imponderabile a parte dopo la battuta d'arresto del Bari contro il Cagliari, Ventura è stato bravissimo a preparare psicologicamente i suoi parlando della trasferta in casa del Milan come un posto dove andare a divertirsi. Sentiamo in proposito un ex di lusso come Massimo Donati. Speriamo, speriamo di fare una grande partita perché quando si gioca contro queste grandi squadre, come dice il mister, è esaltante. Non c'è bisogno di trovare motivazioni o stimoli perché vengono da sé, però bisogna arrivare concentrati con la testa. Quanto alle probabili formazioni che risponderanno domani all'arbitro Brighi, il Bari conferma tutti tranne Maggiorini in attacco. Al fianco di Barreto infatti torna Kutuzov dall'inizio. Confermato e non poteva essere diversamente anche lo sfortunato Ranocchia dopo l'errore che è costato la sconfitta contro il Cagliari. Lui, Bonucci e i due Masiello dovranno vedersela contro Ronaldinho che aggirà dietro le punte Pato e Duntelar.